Buongiorno, buonasera e buonanotte a tutti quanti, i nostri telespettatori, siamo sempre noi, Zaganella Montare con la Z, mi scuola tutto attaccato, siamo qui, sole e violenta come sempre, indovinate a quale gioco, esattamente, Flick Tale Innocence, e probabilmente siamo vicini al finale, abbiamo trovato la nostra madre, e ci ha chiesto di rubare delle chiavi, ovviamente, trovo le chiavi di suro, va bene, vado madre, vai. Le mani è là, mamma. Sì, sì, mamma, nascondili. Comunque questa è la tipica posa dei topini, posso dirlo. No, lui è carinissimo, troppo bella. Dove andiamo, dove andiamo? Oh no, dobbiamo muovere le luci. Poi ci saranno dei topi, sicuro. Ma c'è l'acqua? Ma che che? No, ma noi siamo troppo piccoli e innocenti per cedere delle persone. Ma che è? Ma ci sono persone qua? Oh mio Dio. Facciamo, saliamo? Allora, rimani basso. Madonna. Che anzi, gira un po'. Sì, andando di qua. Occhio. No, Ugo, non voglio farti diventare cattivo. Come tua sorella. Ma che c'è un masso qua sopra? Vabbè. Mi sa che per forza lo dobbiamo fare, sai. Eh, mi sa di sì, che è obbligatorio. No, non voglio farti. Capirai, a forza. Cazzo, ma che so? Vabbè capito che è successo. Oh no, cazzarola. Cosa stanno i gira? Cosa me la pronunci? A destra? Come a destra? No, no, a destra, a destra. A destra? Ma qua ci stanno i doping, ci potremmo passare. Dove devi spostare i ratti, devi spostare, perché è comunque lì, quindi. Quindi prendi la torcia laggiù. Alta dei piedi. Sì, penso che dobbiamo spostare quella torcia, sì. Qui siamo tranquilli. Oh! Ok. Scusate, signorini. Ok, fermo così, ecco. Bravissima. Vai. Vai. Allora devo andare laggiù in fondo, c'è un'altra. Sai che se io mi metto davanti alla luce, no? Madonna mia, c'è uno stranciato proprio. No, no, non... Ah sì, perché devi fare brava, sì. Eh no, aspetta, no, devi fare... Ah no, vabbè, non fa niente, no, no, no. Vabbè, vabbè, vabbè. Perché poi fai il giro dall'altra parte, perché non ci ho pensato. No, non lo fa fa. Ah, allora metta là, allora. Basta, ecco. No, metta là, metta là. Ma dove passare di qua? E che ci possa fare di qua, scusa? E lasciarla così, poi per tornare indietro, no? Ah, magari poi spunta la guardia. Eh. Ok, va. Credo. Via, via. Ma dove sta sta chiave? Eh, ho capito, questo lo sto a dire. Che cazzo mi... Mi serve sta cosa? Non ho capito. Non è che dobbiamo andare qua, basta. Non ho capito io. Impapito. Ah, eccola la chiave, la fangula. Non ve lo faccio vedere. Di là, di là, Ugo, Ugo. È pure spinato sto coso. Ah, ok. Vai. Ok. Piazza chiare? Prendi tono indietro e prendi la scala, poi. Mm-mm. Ah, mannaggia, che paura. Scusate, a me viene veramente molto di destra questa luce. Non va avvicinato. Ok, torna indietro, vai. Sali sopra la scala. La prima che trovi, magari. No, un'altra idea. Torna qua a scala, che fa, scusa? La scala? Ma la scala da qua noi l'abbiamo presa. Sali da qua. Che capito fa? Vado di nuovo laggi in fondo. Noi dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo andare di qua, noi. Non posso saltare? Ugo, salta! C'è un fossato, dai! Perché di là dobbiamo andare? Perché dobbiamo tornare indietro, dalla madre. Eh, ma non è dall'altra parte. Ah, vabbè, io ho senso... Oddio! Vabbè, sì, sono morti. Ok. E adesso cosa faccio? Ma non puoi girare la lanterna dall'altra parte, nell'altro senso? Sì, sì. Sì. Ok, vai. Via, via. Fatto? Vanno, fanno via. Oh no! Oddio, beh, fino a una certa, eh. Eh, ma dove devi andare? Lì, lo vedi quel buco? Sì, sì, sì. Ma come cazzo fai? Ah, inquadra l'altra. Metti quella, questa qua. Metti, inquadra l'altra verso del là. Dici che funziona adesso? Sì, tanto c'è l'altra. C'è l'altra, vai. Mi sono buttati i dobi. Ok, dai, facciamo così. Giro meglio quella. Giro meglio quella di qua. Poi li giro, ok. Questa fa apparentemente da corridoio, capito? Andalo là. Eh, così, lascia così, sì. Lasciamolo così. Solo giriamo. Di qui. Levatevi. Andatevi. Madonna. Famo? Eh, sì. No, non so. Ugo, corri, ugo, corri, ugo, ah! Un bra. Ok. Fatevi, levatevi, fatevi. Vabbè, ce l'abbiamo fatta per un pelo, però ce l'abbiamo fatta. Bene, madre, scappiamo. Adesso che sarò la madre. Scopriamo che non era lei. La tetta? Eh, la testa. La tetta. Non mi fido da madre. Vabbè, non me la fate vedere, mamma mia, è solo una tristezza a me. E poi c'è sto riporto emo sull'occhio che è proprio, guarda... No, sono fatto tutto il labbro spaccato, spregge, mamma. Cioè, non l'hanno menata di più. Eh, cazzo. Che vuol dire? La voce che fa male la tetta. Non è possibile ignorare questa voce. Accolirla, totalmente. Non è male. Controllare i ratti. No, vabbè. Che t'avevo detto io? Io ero sicura. L2. Bello, però. Guarda. Date via. Braaave, tu bene, andate. Ti affanculo. No, ho detto andate affanculo. Porca troia. Vabbè, iniziamo i topi. Però la madre lo sapeva, eh. No, li facciamo uccidere. Sì, dai, fai li uccidere. Eh, non ci vanno, non ci vanno. Come no? Tornano indietro. Ah. E allora lascia i là. Che succede se li lasci? Ti ammazzano. Beh, siamo i topi con tutti i pezzi di mer... Guarda, 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 guarda. Ha capito tutto, lui. Ha capito tutto, Navi. Guarda, guarda, guarda. Non è un problema. È un problema. È un problema. Ma devi controllare. Sì, mamma. Allora, è questa mia malattia? Non è un problema. È un problema. Ti explico. Un problema. Un problema. Braccio, quello rimarrà lì a morire. Topi? Ci sono altri topi? Posso avere dei topi? Grazie. E' bello anche il fatto che la mamma si appoggia al figlio. Molto bella questa cosa. Sì. Ragazzi, venite tutti con me. Adesso lo fottiamo. Oh, mamma mia. Andate a mangiarlo. Vai. Eh no, c'è la luce, Serena. Fagli il faggino. Come faccio? Eh no. Che cazzo fai? Il primo ha funzionato. È passato tranquillo. Ora se sono magnate la madre. Vabbè. La madre, non lui però. Sì, no. Lui è il santo. I topi e la madre. No, no. Via, via. Via. State nel buco, su. Non rompete. No, ho detto che stai nel buco. Oddio, ma io a retromarcia me la devo fare, sta scena. Ok, dai. Venite qui, nei tesori. Mettili al rovescio, come hai fatto prima. Almeno, sì. Sì, però c'è nel senso, non rimanessero lì dentro. Vai, stai nella luce, vai. Non siamo nella luce, siamo morti. Eh, come pure dalla luce da girare. Occhio, eh. Sì, mamma, staccati perché c'è. Io devo staccare sta cosa, nè che... Ma se vuoi fare la madre invece che il figlio? No. Ok. Devi liberare i topi. Eh, lo liberate, ok. Vai, prendi il senso dei topi, vai. E metti addosso a quello. Ma ci va? No. No, dai, ma che cazzo fai? Ma non so io, lui ha una scelta. Io sto ancora con i tasti premuti, eh. Lui che l'ha lasciati. No, non ce l'hanno. Non ce l'hanno perché c'è la luce. E allora, che cazzo mi servono questi topi? Ah, ci sono le riabie con i topi. E loro? No, 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 no. Togli la luce. Togli la luce da quello, così i topi vanno automaticamente da lui. Capito? Toglila. Vai, vai Allora puntala sul muro Allora Temerario Prendili e metti addosso a lui Oddio Miei sudditi andate Mangiatelo No, 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 non qui Ma si è dato Si è dato Andatevene Infettate l'artri Infettate l'artri Forse i topi Ah, forse la cura della madre Faceva controllare i topi al bambino Si, forse si Forse faceva controllare la malattia Forse si No, a me mi sta Mi sta più sul cazzo questa Che se sta a binghià sul fio Ah, segno Allora, fateci passare Andate lì Rimanete lì un attimo Grazie Arrivederci Altri topi Quanti? Oddio, ma questi sono tantissimi Infatti non riesco Perché ne controlli tutti? No, quasi nei controlli tutti No, non riesco Infatti, sono troppi Oh, cazzo Su, Ditti Siete in mio possesso Eh, che palle No, no, no No, ma io lo tengo Io giuro che lo tengo Questo cazzo di pulsante Attaccato È lui che Una certa lo lascia Che schifo La sono maniata come un croccantino Sare Direi che sì Se lo merita Lo scopriremo In questo episodio Ok Dove Venite là È un po' frustrante questa cosa Però Eh Io provo ad andare di qua Eh, è salito nella l'altra parte Però No No È chiuso Che cazzo devo fare? Salito è qua sopra Che ve lo dì? Non li fai controllati sicura? Eh Sareno bloccati prima? Eh, sì Evidentemente sì Mettili dalla parte tua Di dietro Mettili Ah, oppure le buttellose Buttamole qua Andate Andate Su, su, su Vitt, vitt Oh, muro di Tobi Il sangue Amice adottata Bene caro Adesso proviamo ad uccidere una guardia Ecco Lui Mi serviva morto No, culo grosso Non l'oro Tobi Dove siete? Adesso vi controllo Ah, riechi È tutto calcolato Infatti No, per cazzo Ma se unisce con lui Un'altra doria Deve essere lui Il re dei Tobi Il prete Questo è fatto troppo Lui Madonna L'hanno un po' troppi Da controllare Oh, wow Vai, mangiatelo No Occhio Occhio Tobi Andate Andate Tobi Oh, oh La che hanno colpita Occhio No, non l'hanno colpita C'è un altro C'è un altro Non so dove Le Eccolo Vai Vai Spara Glielo Bastardo Ori Ma che si stanno ancora qua? Eh, se non maniava bene È un altro sulle scale Mamma mia Devo sentire male Pure a te Occhio Eh, no Che davvero È un Tobi Sinop I Tobi Li puoi controllare Ma questo mucchio Dei Tobi È rimasto qua È il sangue È il sangue E poi se lo mancano Cioè Eh, vabbè Dai, muore Non è poi così tanto congruente Oh Vai, saltiamo Questo lo saltiamo No, no, no Vai via Tobi Ok, puoi escondirli No sa Da dove, da dove Da lì, ahi qua Lala Ok, puoi Cullo sopra Sì Oh Mamma mia Tremenda Questa cosa Bello il pavimento Però È freddo Mamma mia Ora Madre Maronna Guarda Quanti Oh Oh Ma come C'è Vanno Oh C'è un altro Tobi 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 Ho finito i Tobi Ok, grazie Ho finito i Tobi È una scelta Cagata Che cos'è? Cibo per Tobi Non lo so È praticamente fatto uccidere tutti quanti Eh, gli ha dato il No È dato l'antitolo Sì Te lo dico, eh Quando saremo Misha Ammazzate tutti, eh Mamma mia Sì Ammazzate tutti Prima il prede Pretofilo è il primo proprio a crepa Ricordo Ricorda chi sei L'unico e vero re Ed Elanda morirà in diretta Come sempre Mamma mia Effettivamente fa freddo In questa Sua latua D'inverno Che ne due Cui? Ah, sì Ormai io proprio Tutto uno Con le coperte Sì, vabbè Gioco Potremmo anche andare avanti C'è una certa Dio mio Siamo tornati all'Xbox 2004 Non è già la pompa Per un nuovo caricamento Mamma mia Capisco che Stiamo quasi a fine Voi si capisce Però cazzarola Sì, sì Sì Mentre le chulette Le chiappette Bravo, bravo Vedi, mi ha ascoltato Non è fatto il caricamentino Amicia, è svenuta Che fine ha fatto lei Oh, poverina Un mese dopo C'è morto La nuova armatura 1349 Ah, si è messa a pellicciotto Beh, si vede che fa freddo Un mese dopo È passato un mese dopo Abbiamo tutte le nostre cose Ah, è vero perché Chiaramente le tracce Non sanno dove sta lui Capito? Quello Mh Non rivedrà Come tu vuoi Buongiorno Io andrò a vedere gli altri Oh, tu puoi dire a Amelie D'accordo? D'accordo Mi portavo il caffè Eh, ammì Madonna Santa È la Lucas Questa che si lamenta Allora Crafting Un po' di crafting Rubiamo un po' di cosine Vediamo un po' Eh, non sei va a fancazzo Mannaggia Vediamo un po' meglio Tipo patate Sono pelle Ah, no Sono pelle No Fa il nitro Che non Non disprezziamo mai Un po' di tessuto Che quando serviva Non c'era mai Quindi Eh, mamma mia No, quella era proprio pelle Voleva Un po' di cavo Ok Bene E che dobbiamo fare? Vediamo un attimo Se si può fare qui No No Proprio no Ok Stica Lascia perdere Ok Qui No Dobbiamo cercare gli altri Ah Belle Cuoio Ecco Questo ci serviva Potremmo fare qualcosa Eccolo Sì In almeno Uno Siamo ai due C'è nessuno? Veramente Ma è tristezza Beh, intanto Craftiamo un po' di cose Sono nero Ah 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 Bella Guarda C'è No Ah No No Perché Insomma Insomma Una cosa carina Insomma È stata una cosa più Beh, sì Direi che con questo freddo Uno Andossisce facilmente Come che Se correva No, non corre No Perché deve correre Oh Figurati Sì Sì Ma se voi, se voi savi dove è Ugo, ditele a me per pitié, voi veviate su lui, se voi lo puoi. Oh, che cari... Lacrime, 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 lacrime. Non sa che Ugo sta più o meno bene con la madre. Va bene, vediamo, sarà un mese, probabilmente si è evoluta un mostro. Praticamente sai com'è, gli ormoni, no? L'ho trovato otto metri. Eh sì, vabbè. Un po' di zuppa. Ah, noi venivamo da qui, giusto? No. Vabbè, credo che dobbiamo uscire, però non lo so. Eh, se dobbiamo trovare l'altro, io non so che fino hanno fatto l'altro. Mi ha fatto un casino qua. Cioè, il fornaio probabilmente è tutto fare. Non è un fornaio. Vabbè, di mestiere fa il fornaio, poi fa altre cose. No, di mestiere il fabbro. Noi abbiamo detto che il fornaio è per caso mia, quello di Anastasia. Ah, già, già. No. Eh, salut Anastasia. Salut. Eh, ça va, vous deux? Tu vois bien, oui. Arthur vuole juste se tirer, encore une fois. Tu m'emmerdes! Je veux nous garder en place, c'est tout. Comme on l'a toujours fait. Eh, la nuit va tomber, il va falloir allumer les feux. Arthur, tu m'aides? Vas-y. Il la fa' pas trop chier. Eh, va, il n'aimo. Mettons les brasiers en place. Commence par... Par celui-là. Oui, je sais. Ça fait des semaines que... Oh, no. Désolé. Ça met à dormir de savoir que la force est sécurisée la vie. Non ne ho solo 6, ma così consumo. Eh, ma devo farlo io? Eh, farlo de si. Ah, là-giù c'è il fabbro. Je veux dire, qui est-ce que tu m'emprega. Tu nous assovés. Tu t'es fait prendre et échapper. Je me dirais le héros de la vie. Mais l'aurait été triste que tu parte. Sto smadonnando quello. Sto smadonnando. Ah, arcatroia, fa coso. Ok. Sì, aspetta che con un tiro di fortuna le accendo tutti, eh. Et voilà. Ok. Oh, Viola, l'ho trovato il fidanzato. Eccolo, sì, infatti, ragazzi, lui, devo dire, il fornaio. È il fornaio. Ma che mi fa salire? Eh, salire, magari iremo una mano. Ma che... Ma stai fermo. Non ci voleva tanto, eh, cioè. Dove lo devo mandare, questo? Forse di qua. Arthur, Melly è fatigué di correre. Melly e moi, on n'est pas comme... Mais peut-être que Melly n'est pas comme toi non plus. C'est bon, j'ai compris. Speravo di non vederlo mai più, questa cosa dei topi qua, le cosi. Manco io. E che sarà una bella rottura di palle. Vabbè, accendiamo da qua, dai. Dove scende, eh, adesso. Ok. Accendi pure l'altro, guarda, scendiamo da là. Sì. Ok. Altro, te sovo. Ma dobbiamo spostarli tutti? Che palle. No, solo quello. Penso che adesso dobbiamo andare lì giù, però. Ah, gli angoli, quindi, praticamente. Ah, ce n'è anche uno qua, guarda. Sì, sì, vedo. Vai, amiccia. La tua mira è incredibile. Beh, abbiamo finito, praticamente. Ah, aspetta, ce n'è un sasso là, ma so. Ora puoi rifare. Caroccia? Sì, mi sa che sì. Ma caroccia no, però con l'alcol azolfo forse pure pure. Ho fatto di roba qua, aspetta, aspetta. Vedi i sassi, vedi? Ah, vabbè, io ho detto sasso, non è un sasso, però, vabbè, sembrava sasso. Ah, ma sì, certo. Non ci avevo mai fatto caso, sai, a roccia. Non ci avevo fatto caso. Sarà tipo, tipo, uno di quelli, insomma, che fa scintille, ecco. Eh, certo. Vabbè, userà la pietra per... Eh. Come se fa la scintilla. Sottofondo, no? Non per fare la scintilla, proprio per usarlo... Cioè, magari prende la pietra e lo intinge di... Per tirare, sì. Lo intinge di cose, no? Capito? Ah, quindi i ratti... Madonna, salgono. Oh, Cristo. Ma ucciderli? Oh, oh. Oh, no, li spengono. Nonno buono. No buono. Sì, io come faccio a correre? Sì, sa fa fattuto. Io come faccio? Eh, no, poi, credo, devi accendere di un piacere vicino a... Eh, eh, vedi? No, 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 l'altro, 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 l'altro. Sta muovendolo, vedi? Lo sta muovendo, vai. Ah, ok, ok. L'ha acceso lui, l'ha acceso l'arca C'è la merda Quindi Cioè, praticamente noi l'accendiamo Arrivano i topi E lo spengono No Ok, scendi quello e spostalo Tipo da qua Così poi possiamo scendere Via tutto, via tutto Eh, amì, amì, dai, su Ce l'ho puoi fare Ok Cioè, fino adesso ci potremmo stare Tanto altre roba Ce la stanno spammando a morte Come per dire, ti servirà solo questo Oh no Oh oh No, vai via Via tutto, via tutto Occhio, sei a destra, a destra No, vai No, vai Zona rossa Occhio, eh, non so dove Ecco là giù Ok Cazzo, come famo? Eeeh Dove? Ok Ok, vai Ok, vai E quindi? Beh, aspetta, segui il bracere Ah, ok Sanno un altro Vai Oh oh Dobbiamo aspettare adesso Occhio Dove? Dove? Eh, girati Che ne so Adesso, a sinistra, a sinistra A sinistra, a sinistra Ecco No No Dai, dai, dai Nazzo, sei pure acceso Una bomba atomica Vai, se la c'è di questo Brava, vai piano, brava Fammi ne rifà altri 40 trilioni Adesso muoverà il fregno, vorrebbe Ehi, morto Eh, giustino Tu vado salì? No No Ehm Oh Oh Buongiorno No, da dove devo salì? No Ma Ma Che devo fa? Eh 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 Buongiorno Davanti E una anche a sinistra E una anche a sinistra Eh Ah No, no, no Dai, ma da dove? Ma dai, erano solo due Ma perché so tre? Madonna Difficile sta parte Eh Eh Ho cura Vai Vai a sinistra Un'altra Oh Sta avvenendo mal di mare, eh Dove stanno? No, no Destra, 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 destra Oddio, che schifo Sì 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 Vai 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 Occhio eh Allora uno davanti Sì Ok Uno a destra Oh no Dovamo salì di sopra? Sì Vai 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 Sì 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 Ok Lui deve scendere Adesso tu portarlo Aspetta Eh Quindi Non ho ben capito Ah ok No Devi portarlo all'altra parte Devi portarlo Sì sì Perché giustamente da qua lui non può andare quindi Madonna mia Sono aratti mica l'esercito inglese Bella questa Questa Lucas mi è piaciuta molto Ok vai Cosa guarda Veloce luce fallo Oddio Non ti fermare Tu non hai visto niente Non ti preoccupare Mamma mia sì che ho visto No 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 fai finito di niente Vai avanti Come negli horror no? Vai avanti No 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 aspetta Noo Te prego non me ho mangiate Oh oh Artro Gli devo pure salvar culo a questo Ma questo è un po' incapace Arturo Dai Dai non ti bloccavi Oddio non ti bloccavi Ma perché sei scemo Dai Oddio Ma perché la sento Levate 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 Dai possono pure spegnerla adesso È un po' Andiamo dai Damose 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 Accendiamo Accendiamolo dai Ma no tanto devi rientrare Se accendiamo lo stesso non si sa mai Andiamo se ne entrammo Chiudi tutto Chiudi È stato inutile accendere quei cosi Eh direi Oh cazzo Qua c'è schioppa qualcuno eh Oh no c'è lui E lei rimane lì E lei rimane lì Va bene Oh cazzo Nooo Ma che cosa L'hanno pure vestito Nooo L'ha fatto diventare cattivo Te l'avevo detto che diventava cattivo lui Il bambino L'ho indotto L'ho indotto a E certo Signore e signori il vero re dei topi Wow Comunque ci avevamo azzeccato Metà per uno eh Mh Mh Oh ma che cazzo Se corri magari ma fai pure un favore eh Cioè Che corri magari Che ne so così Buon coltello Calma Che che Ma questo ha sbagliato tutto noi Doveva fare il comico No 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 Nooo Oh Oh Allora forse non siamo morti Né io né il ragazzo Però Non lo so No no Eh si vabbè Ma uccidi lui dai Ma che davvero C'è il potere che uccide tutti Uccidi lui No 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 davvero Ma non mi fa fare niente Fuggi da Nicolas Arretra per scappare da Nicolas Ok va indietro allora Bella comunque questa scena eh Madonna Ma che figa Fighissima Eh mi son bloccata No 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 Ah l'unico Perché lui vuole il potere lui no? Eh oh oh guarda chi c'è guarda chi c'è Dai ti prego uccidilo Oh finalmente l'hanno ammazzato Bravo Arthur Ho detto che ero vivo Mamma mia Arturo Contro Va dai sui orecchi le pigli 올라 Sì no veramente Piuga una pietra schiacciaiata esa A me che sia morto eh Artura Oddio Le lacrime le lacrime nonooo Ma poi i topi, uno sopra l'altro, che girano, vabbè. Bravo, bravo, bravo! Oh, vibra tutto qua. Io ho la mia... No, 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 ti avvicina a Ugo, che ammazzi. Per errore con quei topi. La mia teoria, ragazzi. Sì, 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 sì. Mamma mia, una cosa così ha voglio vedere disegnata, overpower. La mia teoria, tu è passata. Non lo sapevo. Eh, gli è tagliata essa. No. Ecco. Topi, tutti lui! Topi, tutti lui! Come faccio? Uccidi Nicola, 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 secondo. Nicola, secondo. E come cazzo faccio? Ma aiuto, non lo so, scappa! Scappami già! Scappa, vaffanculo! Giro, giro, tondo. Non lo vedo. Ah, stanno cercando... I topi stanno cercando. Ah, dei ratti, vedi? Le torce, entrappolano i ratti sottoterra. Spegne le, libera le... Ok. Uh, ok. Tra i ratti, singole le fiamme. Sì, amici, magari non ti sa. Ok. No, le torce, proprio le torce. Mi sa, occhio, sta sentendo... Oddio, sta vissima. No, corri, 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 corri. Ho sbagliato tasso, scusato, sbagliato tasso. Oddio, lo sento che corre, sento. Sta correndo, oddio, oddio, oddio. Sta giusto qui! Ma che mi ha visto? No, non lo saprei. Oh, sento qui, lo sento, sento il culo. Buona, 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 buona. Forse l'abbiamo... Ok. Basta, te, basta. Spegni l'altro, dai. Noi, amici, porca troia, ogni volta. Ma ho proprio visto. No, ma perché sbagliato? Oh, oh, ho sentito vicino. No, io ho fatto... Oh, però, eh. Guarda. Ah, quello dobbiamo spegnere. Sì, vai. Oh, oddio, però ci vengono addosso, cioè. Oh, che palle. Eh, però... Vai, controlla lì, sai? Mi serve il potere. Ok. Spegni la cosa là. Cazzo! No, n'è, d'oro? N'è, d'oro? Tu? Mamma mia. Che paura. No, se vabbè, la spada di fuoco. No, vai. Ma pareva troppo facile. Oh, Gesù, ma pure le spada di fuoco. Ma quando va finire? Spegni l'altro cosa, che ne so. Sì, è un po' vero. Le ha uccisi tutti, ah. Un bel dito al culo, posso dirlo, quello? Cazzocco, la davvero. Via, 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 ti ha visto, via. Uh, ma che stava là, ma che davvero? Eh, vabbè, usa il potere, potrei... C'era il tempo. No. Uh, il davorio. Ma prima io devo spegnere il braccio, io devo spegnere, ma so. Eh, non lo so. Ma poi, no, stai accendendo la merda, stai accendendo tutto. No, vavanculo. Spegni tutto. Spengo lui, prima di tutto. Vedi. Bello, vai. Topi? Eh, questo la faremo altre quattro volte, secondo me. Sì, vabbè, ma questo va a fuoco, non more, cioè, ma che davvero. Spegnala subito. Non riesco a cercare il coso dei topi, paracca, paracca, l'altra. Corri, amici. Oddio, dì, 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 dì. È accelerato. Oh, sta affiattando. Ma che ci ha visto? Sì, no, sì. Si è dato fuoco, direttamente si è dato fuoco. Sì, ma bravo, date fuoco, ma allora decidevi pure di rimanere. Eccolo, eccolo. Ok, spegnilo, spegnero tutto. Guarda che merda che sta spegnendo. Eh, ma è dove cazzo li trovo? Mi ha dato fuoco alle nuove, coglioni. Qui. Oh, oh. E va piano. Questo con l'armatura e tutto. Armatura di fuoco? Sì, sì, sì. Ma manco more. Lui corre, lui corre, lui corre. Dove stanno? Dove stanno i topi? No, ma che davvero? L'ho preso. Vabbè, aspetta qua, girati. Dove sta? No, lo so, ma eccolo. È lì che riaccende tutto. Perci tua. Vai. Vabbè qua. No, no, ma non si spegne. No, e io come faccio? Scusate, questo non si spegne. Ah, non deve vederti. Sì, sì, vabbè, che c'ha i raggi X, che non si spegne se noi lo buttiamo a tozza. Ma davvero? Cazzata, su. Sì, vabbè, ma quando mi avviso? Cazzo. No, 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 no. Scappa, scappa, scappa. Quanto puoi staccare il ragazzino? Porca troia, una piaga o? Una piaga. Ma guarda, ma infatti faremo anche prima, perché da un lato io lo attiro e dall'altro lato... Sì, vabbè, vabbè, no, ma non è vero. Questo è un mago, un mago. Tu sei un mago, eh? Ma non te li fatemi! Scusate. Come? Come? Non è niente. Ok. Lo sento, ma non lo vedo. Nemmeno io. Occhio. Ecco, sta là. Spegnilo, spegnilo ora. Aspetta, aspetta. Sì, questo muo va al giro. Vanno torna? Intanto spegniamo questo, se non so cosa mi parte. Mamma, vaffanculo, ma che cazzo mi ha dato? Piatelo, no, dammi, non muore, ma non muore. Non muore, non si spegne. Ma poi che vuol dire che gli butta qualcosa addosso e non si spegne? No, perché lui tipo lo para, capito? Adesso è pure un X-Man, lui. No, se ne sta a destra, se ne sta a destra! Scusate. Chi ha mai visto? Non so, c'era così dietro, io. Sempre dietro alle tue chiappe? Oh, sì, vabbè, quel saluto è cazzo. Ma dove tu, dove, dove, dove? Tu c'ho messo perso i topi, io. Eh, sono là, dopo. Ok, ecco, fermate, eh. Basta di abbassati. Da dietro, se lo dico, qui, dai. Aspetta, no, sì, vabbè, dai. No, damma, come mi ha visto? Damma, ori e basta, stronzo. Affanculo, te che lo pari che a mano, sì, vabbè. Ma che, sì, eh, lui è X-Man, capito? Adesso c'è il potere pure di... Che cretinata, regà. Ma spegni tu, spegni tutto, spegni tutto. Oddio! Ma poi non corre, amici, ma perché non corre? No, io stai andando, ovviamente c'è, così non ti nasconderai mai. No, sto dietro. Lo sento. Lo sento, pure io lo sento. Ok. Ok, ferma, eh, non te fa, non fa nulla. No. Ma io gli devo piegare chiappe, capito? Cioè... Eh, ma... No, 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 no. Vabbè, però, ma che vor di, ma che vor di, cioè... Ma per un pizzico ci vede subito, ma che stronzata. Cioè, su sta parte è fatta male, però, non è possibile. Assomia molto a quello al pezzo, quello di Remoted, ti ricordi quello che aveva su Alecco? Fermo, eh. Mamma mia. E oramai noi abbiamo il coso infinito. ok aspetta aspetta no aspetta dai spegniti topi 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 subito qui subito qui no 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 dai bro ma che forti bene noi ci fermiamo qui e ricominceremo la prossima volta perché veramente sta cosa non l'ho capita no 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 infatti noi e noi ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio di remodere innocenza arrivederci